La portiera di Gabbiano Non arrivava sino alla fine ma si fermava a metà Tra l'altro va ricordato che nel 1954 all'International Motor Show di New York venne presentata l'Ali di Gabbiano Il progetto V198 che era tratto da quella del 1952 che aveva avuto tanto successo nelle competizioni Quindi dalla vettura sportiva arrivò poi la vettura di serie Sempre con questo famosissimo e innovativo telaio tubolare a tradiccio spaziale Che la rendeva particolarmente aerodinamica, super prestazionale ma anche molto molto leggera E tra l'altro aveva delle innovazioni incredibili anche sul motore Tant'è che era il motore di vettura di serie più potente dell'epoca 215 cavalli e una velocità massima di 260 chilometri orari Alla Mille Miglia 2012 si festeggiano i 60 anni di questa Ali di Gabbiano E viene presentata la nuova SL che prosegue una grande tradizione Sì, l'SL è un vero e proprio mito nella gamma Mercedes ma nel mondo automobilistico Siamo alla sesta generazione, ad ogni generazione abbiamo introdotto delle vere e proprie innovazioni nel mercato Oggi la SL interpreta al meglio quelli che sono i valori di Mercedes Il fascino di Mercedes, un design sportivo Una prestazione garantita da motori incredibili 6-8 cilindri, 306-435 cavalli con dei consumi ridotti fino al 30% Anche grazie all'alleggerimento Infatti SL vuol dire sportiva super leggera E oggi la SL pesa 140 kg in meno grazie ad una scocca completamente in alluminio Ecco, quindi una tradizione perfettamente conservata Visto che le prime SL si distinguevano per la leggerezza E tra l'altro, dicevi, per l'innovazione dei motori Io voglio ricordare che la prima Ali di Gabbiano fu la prima vettura di serie Ad avere un motore 4 tempi a iniezione di benzina Quindi avete continuato questo sviluppo? Sì, tradizione e innovazione per Mercedes sono la stessa cosa E proprio su SL sono la migliore interpretazione da sempre Tutto oggi SL presenta in anteprima mondiale alcune innovazioni Come ad esempio la possibilità del front bus Quindi le casse dislocate nel vano piedi Per sentire al meglio la musica anche a tetto aperto Così come la possibilità di lavare il vetro anche a tetto aperto Grazie allo spruzzo d'acqua proprio sulla spazzola Sono piccoli particolari che fanno capire anche l'attenzione del dettaglio di Mercedes In generale su questa gamma Grazie a tutti